C'è stato un mese molto intenso ma l'abbiamo vissuto molto bene perché avevamo dietro le quinte un grande maestro Luca del Federico che ha saputo gestire benissimo i tempi, i metodi, non ci ha messo assolutamente pressione quindi il risultato che penso sia oggettivo sia sicuramente merito suo. Noi abbiamo messo la struttura, la voglia di fare e soprattutto la passione che abbiamo per questo splendido sport. Sicuramente si potrà ripetere anche l'anno prossimo? Sicuramente anche perché è nata questa data quasi per caso quindi l'abbiamo ospitata con estremo piacere e quindi in maniera quasi improvvisata l'anno prossimo sicuramente faremo quello che siamo abituati a fare. Abbiamo avuto anche grande riscontro perché abbiamo visto anche persone che si fermavano dopo la partita di calcio perché quando la partita è veramente bella c'è una grande emozione sportiva, lo sport è trasversale. Poi questo è un anno anche di Olimpiadi per cui se non siamo abituati quest'anno a vivere questa trasversalità allora vuol dire che non abbiamo capito niente di sport.